Ciao a tutti amici del mistero, quest'oggi vi racconterò la storia raccapricciante della casa che vedete alle mie spalle, situata in un piccolo paesino di una provincia americana e che molti sostengono sia maledetta ed infestata da oscure presenze. Questa è una storia che si basa su un fatto realmente accaduto. In questa casa, decine di anni fa, fu trovato il cadavere oramai carbonizzato di una donna, occultato sotto le assi del pavimento in cantina, in seguito al folle gesto omicida del proprio marito. Da allora sono molte le leggende e le dicerie che si tramandano tra gli abitanti del luogo. Si narra che lo spirito della donna continua ad aggirarsi tra quelle mura oramai abbandonate e di numerose improvvise asparizioni di coloro i quali siano stati così audaci da avventurarsi il suo interno con l'intento di esplorarla. Ma c'è un episodio in particolare che fu narrato da un giovane di nome Daniel, che pare sia riuscito miracolosamente a fuggire da quella casa maledetta. Fu trovato nei boschi che vagava in preda al delirio e alla pazzia. Ci sono voluti ben 12 anni prima che il giovane potesse riprendersi e raccontare la terribile esperienza vissuta insieme al suo amico Medio. Io sono Ethan Sombra e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Storie da Brivido. Ma cosa sarebbe accaduto realmente? i due giovani in quella casa che viene considerata tra le più infestate di tutta la sua contea. Era una notte buia e tempestosa e la vecchia casa in fondo alla strada appariva ancora più sinistra del solito. Matthew, un giovane di 17 anni, aveva sentito raccontare storie spaventose su quella casa per tutta la sua vita. Si diceva che fosse maledetta, infestata da spiriti inquieti. Ma Matthew non ci credeva e decise di esplorarla per dimostrare ai suoi amici che non c'era nulla di cui aver paura. Chiamò il suo migliore amico, Daniel, affinché lo accompagnasse nella sua avventura. I ragazzi avevano scommesso con i loro amici che sarebbero entrati in quella casa di notte e che avrebbero trascorso lì dentro praticamente tutta la notte. Daniel era molto terrorizzato all'idea di quell'avventura, ma alla fine, dopo molta insistenza di Matthew, riuscì a farsi convincere ad accompagnare il suo amico. I ragazzi iniziarono ad incamminarsi verso la casa e, una volta giunti a pochi metri dalla stessa, una sensazione di freddo e paura si impadronì di loro. La porta principale era socchiusa. I ragazzi la spinsero leggermente e, la stessa, con un rumore che sembrava quasi un lamento, si aprì cicolando leggermente nel vento. Con un respiro profondo, Matthew e Daniel erano appena entrati dentro la casa maledetta. L'interno era ancora più tetro di quanto avessero immaginato. Polvere e ragnateli coprivano ogni superficie e l'aria era pesante e stantia. Camminarono attraverso il corridoio principale. Le loro scarpe scricchiolavano sul pavimento di legno marcio. D'un tratto, una porta si chiuse violentamente alle loro spalle, facendoli sobbalzare. E solo il vento si vissero, cercando di mantenere la calma, ma il cuore batteva forte nel petto dei due giovani. Continuando l'esplorazione, Matthew trovò una vecchia scala che conosceva il piano superiore. Con cautela, la iniziò a salire. Il legno scricchiolava sotto il suo peso, mentre Daniel lo seguiva a breve distanza. Arrivato in cima, un senso di inquietudine lo avvolse. L'oscurità sembrava quasi tangibile e sentiva come se occhi invisibili lo stessero osservando. Entrarono poi in una stanza che doveva essere stata una camera da letto. Una vecchia sedia a dondolo si muoveva leggermente, come se qualcuno l'avesse appena lasciata. Sentirono un sussurro appena accennato, ma non riuscivano a comprendere esattamente cosa quelle parole stessero dicendo. Si voltarono di scatto, ma non c'era nessuno. La paura cominciava a prendere il sopravvento, ed una puzza di carne marcia e di morte si diffusi improvvisamente per tutta la casa. Dicisero di andarsene, ma quando tornarono verso le scale, le trovarono crollate, come se fossero state distrutte da una forza invisibile. Il panico colse i ragazzi. Dovevano trovare un'altra via di uscita. Facendo il tragetto al ritrosso, ogni porta che aprivano sembrava condurli in un altro corridoio, in un altro labirinto di stanze buie e senza via di uscita. La casa sembrava cambiare sotto i loro occhi, cercando di confonderli e disorientarli. Erano certi di sentire risate lontane e lamenti di donna, ma non c'era nessuno in vista. Provarono a chiamare aiuto, ma la loro voce si perdeva nel nulla. Le pareti sembravano avvicinarsi, come se la casa stessa volesse schiacciarli. In una stanza trovarono uno specchio antico. Quando vi si avvicinarono, non vedevano il loro riflesso, ma l'immagine di una donna pallida con occhi vuoti che li fissava. Indietreggiano terrorizzati, ma non riuscivano a distogliere lo sguardo dallo specchio. La donna, nello specchio, sussurrò, non ve ne andrete mai da qui. I ragazzi corsero fuori dalla stanza con il cuore in gola. Ogni passo diventava più pesante, ogni respiro più difficile. La casa si stringeva intorno a loro. Il soffitto sembrava abbassarsi. Le ombre delle pareti prendevano forme mostruose che le inseguivano, pronte ad afferrarli. Alla fine, esausti e disperati, trovarono una piccola porta nascosta dietro una tenda polverosa. La aprirono e si ritrovarono in una cantina in buia e umida. Era la cantina dove fu trovato il cadavere carabbonizzato dalla donna. L'aria era fredda e densa di un odore acre. Iniziarono a cercare una via di uscita, ma non trovarono nulla, solo vecchi oggetti ammuffiti e ombre minacciose. D'un tratto sentirono dei passi alle loro spalle. Lentamente si voltarono e videro una figura femminile indistinta avanzare verso di loro. Gli occhi della figura brillavano di un sinistro bagliore rosso. Matthew fu il primo che cercò di scappare, ma le sue gambe non rispondevano. La figura si avvicinò sempre di più e Matthew sentì un gelo mortale attraversargli il corpo. Con un urlo soffocato, Matthew cadde a terra. La figura si chenò su di lui, il suo volto senza lineamenti a pochi centimetri dal suo. Gli sussurrò con un gigno beffardo le parole «Ora sei mio!» e iniziò letteralmente ad assorbire tutta la sua energia vitale. Il corpo di Matthew, in pochi secondi, era diventato vecchio e secco, come se fosse morto da tanti anni. Ed ero oramai mummificato. Daniel, in preda all'orrore, si precipitò verso le scale che poco prima gli avevano condotti in quella cantina. Salì nuovamente le scale con tutta la forza che aveva, ma sapeva di non avere scappo. Alle sue spalle fu raggiunto dalla figura mostruosa femminile. E all'improvviso, con un gesto di disperazione, si lanciò verso una finestra che era posta dinanzi a lui, rompendo il vetro e precipitando all'esterno da alcuni metri di altezza. Nessuno vide mai più Matthew. Daniel, invece, del quale era stata denunciata la scomparsa della polizia, fu ritrovato da un cacciatore dopo alcuni giorni che vagavano i boschi in preda alla follia e al delirio. Fu pertanto ricoverato alcuni anni presso una struttura sanitaria per malati mentali. Poi, un bel giorno, come se si fosse improvvisamente destato da quel torpore nel quale era caduto, si risvegliò gridando e riuscì a raccontare quello che, insieme al suo amico Matthew, aveva vissuto in quella casa maledetta. Da allora la casa giace sempre lì, abbandonata, silenziosa e minacciosa, in attesa della prossima vittima che sia così coraggiosa o abbastanza folle da varcare la sua soglia. C'è chi giura di sentire ogni notte continui momenti provenire dall'interno della casa, ma nessuno ha avuto più il coraggio di mettere piede al suo interno, sia di giorno ma soprattutto di notte. Spero che questa macabra storia abbia catturato il vostro interesse, anche perché, come ogni leggenda che si rispetti, la stessa prende spunto da un fatto realmente accaduto. E voi, avete mai vissuto un'esperienza simile? Fatemelo sapere nei commenti. Io, nel frattempo, vi aspetto sul mio canale per un nuovo episodio di Storie da Brivido.